Alfonso, tu quei baci li avevi visti tra Federica e Stefano? Ciao Alfonso, no. Ah, che effetto ti fanno? Già ti ho visto in faccia, eh, quindi... Sì, no, vabbè... ...gastava quello, però... No, ovvio mi dà palesemente fastidio. Una cosa è che sai che comunque ci sono stati anche prima del grande fratello, una cosa è vederlo naturalmente fastidioso. Allora, il punto è questo, poi passo naturalmente a Federica e a Stefano, ma perché ti dà fastidio? Ah, perché vedo comunque la ragazza con la quale sono stato otto anni e è ovvio che... Certo. ...che vederla... No, ma te lo chiedo, perché è chiaro che la risposta che tu mi stai dando sia sincera e da parte mia, ma di tutti quanti, più che condivisibile, perché è chiaro che... Però vuol dire anche che comunque ti lega ancora un certo tipo di rapporto a Federica, perché se ti fosse indifferente, chiaramente guarderesti queste immagini con un'aria molto più distaccata, con meno partecipazione, no? Certo, è ovvio, è vero anche questo. Grazie. 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 Grazie.